Cyber Security, in Italia una nuova fondazione che fa ricerca dei 116 milioni a disposizione, di cui 48 da investire al Sud, 91,3 andranno alla ricerca di base e 9,4 a quella industriale, mentre 2,4 milioni serviranno per lo sviluppo, 11,2 per l'aiuto ai poli dell'innovazione e 1,8 alla formazione. Della fondazione fanno parte 11 università, da CA, Foscari a Cagliari, 7 centri di ricerca, tra cui la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e la Fondazione Bruno Kessler, e 6 aziende, oltre a Leonardo, Eni, Fincantieri, Intesa San Paolo, Deloitte e Telsi, il braccio di team che si occupa di Cyber Security. Abbiamo l'opportunità di fare massa critica su questi temi dice Loia. Abbiamo riunito 350 esperti e puntiamo al raddoppio e dobbiamo fare 130 assunzioni di ricercatori, di cui il 40% al meridione. Un altro vincolo forte è un 40%. Un altro vincolo forte è un 40% se non è un 80%. Un altro i 100%. Un altro i 100% ilacas строisce il 40%. Un altro i 100% è un 60% che sia.